Cambia la situazione meteo sull'Italia perché un vortice di bassa pressione riporterà le piogge in avvio di settimana dopo tanto tempo su parecchie regioni, specie del centro-sud. In particolar modo il lato tirrenico verrà investito tra lunedì e martedì da precipitazioni, anche le regioni del sud e le isole maggiori, il nord un po' più fuori da questa fase perturbata, comunque non mancheranno deboli fenomeni sull'angolo nord-occidentale, anche parte di Lombardia, Emilia Romagna. Tra l'altro arriveranno anche delle correnti un po' più fredde da nord-est e dai Balcani che faranno calare le temperature. Andiamo a vederle con la prossima grafica, lunedì clima più fresco non solo al nord ma anche gran parte del centro-sud, saremo in linea con il periodo, diamo un'occhiata anche alla giornata di martedì perché su molte zone non andiamo oltre i 21-22 gradi durante le ore pomeridiane. Seguite però tutti gli aggiornamenti sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo sul nostro sito web.